Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio il Dottor Bellarini per la sua presenza. Dunque, allora come ha detto il Presidente Soldati, questi sono i primi quattro ragazzi nuovi acquisti per la prossima stagione. Possiamo cominciare subito da Danilo, perché è anche giocatore pensato qui stato per prima oltre che essere più anziano, fra virgolette, perché già eravamo sulle sue tracce a gennaio, quindi poi abbiamo raggiunto un accordo con chi rimanesse al Palmeira fino a giugno e poi sarebbe arrivato qua come in effetti è arrivato. è un difensore centrale, un giocatore che ha già maturato una certa esperienza, come avete visto anche già dal suo curriculum, ha già 5-6 anni di attività, 6-7 anni di attività nella Serie A brasiliana. Benvenuto intanto, domanda prima tecnica, chi definisci più un giocatore adatto alla difesa a 4-4, la difesa a 3-4. Non ho tanto... il Brasileiro, Zico, Edinho, che fu il mio trenatore in Brasile, e amorevole. Sono molto aspettativo quella volta e dopo una stagione buona ha esploso. Speriamo che sia un bello auspicio. Io mi accontenterei quasi di fare la metà di quello che ha fatto lui a Udine e sono molto contento di essere venuto qua a Udine. Lei considera Udine un trampolino di lancio più importante? Per certi versi secondo me è sia un trampolino di arrivo che un trampolino di lancio. È una delle migliori squadre che ci sono nel nostro campionato di Serie A e l'anno passato lo ha ampiamente dimostrato. Può essere visto sia da un lato come un trampolino di arrivo. Per me è il coronamento di un sogno poter giocare nell'Udine in Serie A e misurarmi con grandi calciatori. Però allo stesso tempo può essere anche un trampolino di lancio per affermarsi nel calcio incontro. Inizio e Inez e Inez e Inez e Inez e Inez e Inez. Cioè sono due cose diverse. Cioè sono due cose diverse. Lui insomma è individuale, lui si mette oltre questo paragone. So che sarà molto difficile ma faremo tutto il possibile per qualificarci e andare avanti e sicuramente lo faremo. Per tutti gli altri non convocati va dello stesso discorso per Angela sono al centro di trattativa. Angela è una cosa un po' più ristretta. Potrebbe chiudersi. Per quanto concerne D'Agostino, Candreva e Floro abbiamo optato di non far far loro questi test qua. perché anche loro essendo in una situazione particolare che si andrà, vediamo, si andrà o meno a definire entro questa settimana. Altrimenti dal ritiro vero e proprio partiranno anche loro se non sarà trovata una sistemazione diversa. Comunque sono sicuro. Scusa. Il fatto che Barretto ci sia invece vuol dire che ha tutti gli effetti un giocatore che può rimanere qui? Senz'altro sì. Il problema di Barretto era... Solo una veloce direttore. Avete già parlato con il tecnico sulla questione magari di D'Agostino che potrebbe risultare utile se riesce a riappacificarsi dopo quanto era accaduto due anni fa? Io penso che tutte le cose che facciamo vengono analizzate anche con il tecnico. Quindi è inevitabile che ogni cosa comunque viene considerata e esaminata assieme anche alla natura. Ritorno su Barretto, è vero che è stato riscattato, è vero che si sta allenando, è vero che c'è la voglia di farlo rimanere qui, però c'è un problema, un problemino, non ho poco conto, l'ingaggio. Lui a Bari aveva 950 mila euro garantiti, a Udinese aveva 500 mila, non sarà facile trattenerlo. No, perché c'è un contratto, comunque c'è un contratto tra le parti, quindi che lui poi altrove avesse un contratto superiore è buono per lui. Non è che il Bari non c'è la più possibilità di pagare dell'Udinese, però non è questo, non può essere questo il problema perché ci sono dei contratti a cui sono legati i giocatori. Poi tra parentesi anche tutti i contratti si possono anche modificare, discutere, quindi se eventualmente sorgessero dei problemi in questo senso, però non direi che non identificherei il problema principale nel contratto, perché il contratto esiste. Fortuna conoscenza è arrivato a 20 anni. Prima l'appello. Si dice che siano... Cosa si dice che? Si dice che? Si dice che siano le ore decisive per Sanchez, più dentro poco, è vero? Quante volte abbiamo sentito questa frase, quindi aspettiamo, vediamo, quindi quando... E' uscita un'ansa, un'ansa spagnola, un'ora fa, infatti glielo dicevo prima, dove si diceva appunto che non era assolutamente... Sì, ma comunque sono uscite tante volte, non dite di questo genere, non dite che stiamo a commentare ogni... ogni si dice, altrimenti... Comunque non è vero. Non è vero. Non è vero. Che è stato chiuso? No. Ma che sta per chiudersi. Non lo so, ma... Allora, fino a un'ora, due ore fa non vi risultavo, quindi... Il discorso Ingler, che mi sembra... Cioè, Ingler non è stato convocato, Ingler, voi avete già raggiunto l'accordo con il Napoli, almeno stante a quello che ha detto Giampaolo Pozzo, ancora un mese e mezzo fa. Inutile parlare di cifre, ma è una cifra importante. Il Napoli sta attendendo Ingler, l'Udinese ha dato la parola al Napoli e c'è una firma con il Napoli. Ho sentito dire che ci sono degli sviluppi in positivo, che dovrebbero portare Ingler già in pochi giorni, e comunque entro la settimana, al club partenopeo. È così? Ma noi non abbiamo convocato Ingler, innanzitutto, se per due motivi. Il primo motivo è che comunque Ingler avrebbe avuto qualche giorno in più rispetto agli altri, perché è stato impegnato qualche giorno in più degli altri con le nazionali. Secondariamente c'è la sua situazione che sappiamo tutti, dove lui è al centro di una trattativa importante ormai da tanto tempo. Quindi abbiamo preferito comunque in ogni caso dargli tempo anche, ancora questa settimana, di risolvere eventualmente il suo problema con il Napoli, perché il problema, come ha detto lei, tra Udinese e Napoli è già risolto, si tratta solamente di risolvere il problema contro il quadro. Se lo risolve questa settimana, bene, altrimenti anche lui, quando la squadra è in ritiro, si presenterà in ritiro con tutti gli altri, quindi cadrà e finirà anche probabilmente il discorso. Nell'eventualità che Sanchez dovesse partire, si è fatto il nome di Dos Santos in questi giorni? E' uno dei nomi, dei tanti nomi che sono fatti, perché i nomi ne sono fatti tanti, non solo Giovanni Dos Santos, ma anche altri giocatori, sono stati, diciamo, menzionati. Quindi è logico che è uno di quei giocatori che è stato visto, visionato, come vengono visionati tantissimi altri, quindi non possiamo dire che comunque è in una posizione privilegiata rispetto all'altro. C'è una trattativa per Ramirez? Scusa, però mi fa... Cioè esiste una trattativa per Ramirez? Sì, quella del Bologna? No. Ramirez è un giocatore giovane, con, dal mio punto di vista, una potenzialità importante, però mi pare di capire che la valutazione del Bologna sia una valutazione che vada un po' oltre quello che può essere il reale valore del calciatore, soprattutto che non rientra nei parametri dell'Udinese. Cioè la valutazione rimane questa. È innegabile che la presa comunque delle buste di riavere D'Agostino a posto della società in una posizione un attimino problematica, anche nella gestione di questo giocatore visto i precedenti. In questo momento con quale società state parlando? Ci sono due o tre club che possono essere interessati a D'Agostino perché D'Agostino non è vero che è problematica la nostra posizione perché D'Agostino è un giocatore importante, con delle ottime qualità, quindi già sono squadre che lo richiedono, che è un giocatore che manifesta l'interesse nei suoi confronti, non pensiamo assolutamente quindi che D'Agostino possa rappresentare un problema per l'Udinese. Prima avete parlato, ecco questi sono i primi quattro nuovi arrivi, gli eventuali altri arrivi sono subordinati esclusivamente all'accessione di qualche big oppure potrebbero arrivare dei giovani al di là che vadano via Inga, Sanchez oppure anche Zapata perché anche quello è sul mercato? No, altri arrivi non sono obbligatoriamente legati alla partenza di quelli che le chiamo i cosiddetti big, cioè Sanchez, Hill e ovviamente Zapata, l'Udinese prosegue nel suo programma, nella sua filosofia e quindi probabilmente arriverà qualche altro giocatore che è in linea con queste caratteristiche, quindi arriverà qualcuno che non ha nulla a che vedere con questi altri due partenari. Volevo chiedere, Corradi, in caso Corradi, mi sembra che ci sia stato un colloquio con la società, c'è un posto per lui oppure no? E in quel caso che cosa resterebbe per il giocatore semplice? Ma Corradi, da quello che mi risulta, sta pensando ancora se continuare a giocare o meno. Io dal mio punto di vista mi auguro di continuare a giocare perché dal momento che da un punto di vista fisico è ancora in una condizione fisica buona per poter continuare a fare il calciatore. E poi soprattutto anche per il fatto che la cosa migliore che c'è nel calcio è fare il calciatore, quindi finché uno può farlo, poi eventualmente potrà dedicarsi ad altri luoghi. Quindi non però con l'Udinese, il contratto è scaduto. Come calciatore? Sì. No, come calciatore possiamo dire. Anche perché abbiamo Dennis che più o meno come caratteristica è già così pochino. Se l'affarenda si deve sbloccare entro questa settimana in un modo o nell'altro, secondo lei quanto ci vorrà ancora messaggi? Non sono in grado di rispondere perché ormai quanto tempo è che si prolettrai questa cosa e quanto tempo è che si pensa che si possa chiudere. Prima lei malendo che si sta per chiudere, quindi mi affido a quello che ha detto lei, quindi penso poco. Ma l'indico è ancora la contropartita? Non lo so, non è che stiamo in grado di Italia perché o per come non so.